Oh, raga, è uscita la mia nuova pagella anche quest'anno. Speriamo di essere promossi. Dai, vediamo. Fra, fra, fratini il telefono. Allora, lingua e letteratura italiana 6. Vai. Inglese 5. Storia 6, grande, recuperato. No, matematica 3, oh, Dio. No. Informatica 4, no, Dio. No, zio, 2 in fisica, no, fra. Ma no. No, ma. Cioè, no. Scienze 6, boh, ci sta, dai. No, come? 3, no, zio, raga, no, no. Guarda direttamente il comportamento. 6, quant'è? 6, sì, grande, recuperato questo, vai. Promosso? Ammesso? Uzzio. 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 Uzzio.